Un gruppo criminale che stava conquistando potere su gran parte del territorio del Gargano grazie anche a contatti con esponenti di spicco del clan mafioso dell'Ibergolis di Monte Sant'Angelo. Sono sette le persone arrestate oggi dai carabinieri del comando provinciale di Foggia a Cagnano Varano nel corso di un'operazione denominata Far West. Cinque le persone andate in carcere, due quelle che hanno tenuto i domiciliari mentre una persona è ancora ricercata. Gli indagati sono accustati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e fabbricazione di materiale esplodente, danneggiamenti, detenzione e porto abusivo di armi e tentato furto ad un istituto di credito. Le indagini hanno preso il via dopo il furto all'interno di un'abitazione di una cassaforte contenente 35.000 euro in contanti. Furto messo a segno dell'abitazione di un uomo debitore con il gruppo di una partita di hashish. Gli indagati sono stati riconosciuti come autori di un danneggiamento con esplosivo di un'abitazione privata per rappresaglia per un litigio legato a questioni di droga. Il danneggiamento ad una ferramenta è un tentativo di furta ai danni della banca credebre di Cagnano Varano. Uno dei soggetti coinvolti nell'inchiesta di oggi è stato anche arrestato nei giorni scorsi in flagranza di reato mentre stava trasportando due bombe artigennali a Manfredonia che sarebbero servite per un attentato ad un'attività commerciale. Un'operazione che ha bloccato una organizzazione criminale in ascesa sul Gargano e che poteva vantare amicizie e collaborazioni con alcuni esponenti del clan mafioso dell'Ibergolis di Monte Sant'Angelo.